Non è un click day, ci sono le dosi di vaccino e l'invito è quello di non ammassarsi, altrimenti il sistema rischia di essere messo sotto pressione, ma la piattaforma saprà gestire anche questo evento straordinario. Queste le parole di Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, dopo il lancio di un'iniziativa per ora unica nel panorama nazionale, ovvero una vera e propria maratona vaccinale spalmata su 5 giorni. La volontà è stata quella di mettere a disposizione 5 giorni dal 4 di dicembre al 9 di dicembre, dalle 6 la mattina a mezzanotte, con la volontà di fare il numero maggiore possibile di vaccinazioni. E' chiaro che ci saranno problemi organizzativi, ma questo è facile da comprendere, per risolvere i problemi organizzativi bastava sposticipare la cosa di 15 giorni, avremmo sicuramente avuto più tempo per farlo, avremmo sicuramente organizzato meglio le cose, avremmo sicuramente spiegato meglio ai Trentini tante altre cose, ma avremmo perso 15 giorni. E quindi i 15 giorni che avremmo perso, ipoteticamente, se lo avessimo fatto più avanti, noi abbiamo pensato che è giusto guadagnare i 15 giorni, pagando un prezzo sicuramente di difficile messa in moto della macchina, però avendo il vantaggio di riuscire prima a mettere in sicurezza la parte sanitaria delle persone trentine che vorranno andare a vaccinarsi. Il suggerimento è comunque quello di procedere sempre con la prenotazione del CUP online per evitare lunghe attese, facilitare la programmazione delle somministrazioni e il lavoro dei centri vaccinali. Chi ha già fissato la terza dose in una data successiva all'8 dicembre può disdire l'appuntamento e riprenotare nei giorni della maratona. In queste ore il CUP sta inviando degli sms per invitare alla terza dose la popolazione target, circa 140.000 persone, e segnalare la possibilità di disdire e riprenotare un appuntamento già fissato. Dal 4 all'8 dicembre saranno quindi operativi i centri vaccinali sul territorio. Dalle 6 alle 24 ai 12 tradizionali si aggiungono gli ospedali, alcune RSA e un nuovo hub vaccinale in via di allestimento all'Avis. Gli orari dei centri, soprattutto quelli più periferici, possono subire modifiche in base alle prenotazioni. La dose di richiamo può essere prenotata in qualsiasi centro del territorio e non necessariamente dove sono state fatte le prime due. Può prenotare la dose di richiamo anche chi ha contratto il Covid e ha concluso il ciclo vaccinale con una sola dose.